Parola di preoccupazione e poi qualche parola di fiducia, non rituale, ma qualche parola di preoccupazione perché io sono convinto che se non si riesce a contrastare determinate tendenze e posizioni all'interno dei movimenti o di certi movimenti di studenti, ne possono scaturire pericoli gravi. Pericoli gravi, per le istituzioni democratiche, per l'evoluzione politica del Paese, io sono del tutto d'accordo con quello che diceva Benvenuto, deve essere molto netto il rifiuto della violenza come metodo di lotta politica, c'è un abuso grossolano del termine violenza, perché io addirittura ho letto su un settimanale che uno degli esponenti non nuovi del movimento degli studenti più radicali ritiene che per esempio sia violenza l'accordo per l'abolizione delle festività infrasettimanali.